Padre Pio e la conversione dell'attrice Lea Padovani L'attrice voleva il miracolo della guarigione del convivente, ma Padre Pio la rispinse a malo modo, perché non voleva lasciare quell'uomo, ma poi... di Corrado Gnerre Vi raccontiamo un grande miracolo che toccò all'attrice Lea Padovani, molto famosa negli anni del dopoguerra. Questa era innamoratissima di un uomo con cui conviveva, ma era un uomo sposato. L'attrice si trovava all'estero per motivi cinematografici quando venne a sapere che al suo compagno era stato diagnosticato un gravissimo tumore maligno. Gli avevano dato solo sei mesi di vita. Rientrò disperata. Accompagnò l'uomo da altri medici, perfino all'estero, ma la terribile diagnosi venne confermata. La Padovani era a conoscenza della straordinarietà di Padre Pio da Pietrelcina. Insieme al compagno si recò a San Giovanni Rotondo. Cercarono di farsi ricevere dal frate, ma non vi fu nulla da fare. Successivamente ella ci riuscì. Padre Pio ovviamente fu categorico e la respinse a malo modo perché sapeva che i due vivevano nel peccato, non essendo sposati, e che desideravano solo una guarigione fisica senza poi preoccuparsi di rispettare la legge di Dio. Le fece dunque capire la necessità di lasciare quell'uomo. L'attrice rimase molto colpita. Nei giorni successivi sentì una forza interiore che la spinse a formulare una promessa al Signore. Chiese che il suo innamorato potesse guarire. In cambio, lo avrebbe definitivamente lasciato. Dopo pochi giorni, l'uomo iniziò a sentirsi meglio. In una visita di controllo, i medici con sorpresa constatarono la completa e inspiegabile guarigione. L'attrice capì che la sua richiesta era stata esaudita e rimase fedele alla promessa. Lasciò quell'uomo di cui era tanto innamorata. Andò poi da padre Pio. Comprese che dietro quel suo gesto vi erano state le preghiere del santo frate e decise di divenire sua figlia spirituale e quindi di cambiare totalmente vita. Ma l'uomo che aveva beneficiato della guarigione non comprese bene ciò che era avvenuto e si unì con un'altra donna. Insomma, quel grande miracolo era stata l'occasione per la salvezza di lei a Padovani e, speriamo di no, forse per la dannazione di quell'uomo. Cosa sarebbe accaduto se l'attrice, invece di incontrare padre Pio, avesse parlato con un sacerdote di oggi a cui si impone la pastorale contemporanea sui divorziati e risposati? Nota di Basta Bugie. Per vedere il video dell'attrice Lea Padovani, che si confessa da padre Pio, vai sul canale YouTube di Basta Bugie. Grazie. Grazie.